ben trovati oggi per lo provo io per voi andremo a parlare di aumenti nella lavorazione della tecnica tunisina aumenti iniziali aumenti finali e aumenti centrali singoli questi sono due campioni che ho preparato lavorando lo stesso tipo di aumento ma posizionando l'uncinetto in modo differente otteniamo due risultati diversi qui otteniamo una lavorazione molto compatta quindi adatta a quelle lavorazioni in cui vogliamo avere un aumento invisibile qui invece lavorando lo stesso aumento ma posizionando l'uncinetto in modo differente vedete che si vengono a creare dei buchini e quindi può essere un aumento da utilizzare laddove vogliamo avere elementi decorativi nella nostra lavorazione o può essere usato anche per la lavorazione di angoli e la formazione di da oraglan per i top down come per le lavorazioni a maglia anche nell'uncinetto tunisino ci sono vari tipi di aumenti questo è solo uno dei tanti con la sua variazione gli aumenti vanno lavorati sempre nel giro di carico e anche questo aumento invisibile può essere usato per creare angoli o raglan laddove non vogliamo elementi decorativi tutorial che segue andremo proprio a vedere come lavorare questo tipo di aumento che viene chiamato aumento pieno che il primo punto della riga e l'ultimo punto della riga sono i punti di margine partiamo con la lavorazione e l'aumento iniziale lo andremo ad effettuare tra il secondo e il terzo punto d'inizio riga entro nella barretta verticale del secondo punto e lavoro normalmente estraendo la mia asolina vedete che tra il punto che abbiamo lavorato e quello seguente abbiamo una catenella noi effettueremo l'aumento entrando esattamente all'interno della catenella e andando a passare sotto tutte e due le asoline della catenella stessa e quella anteriore e quella posteriore vado ad estrarre la mia asolina e abbiamo effettuato il nostro aumento di inizio rig continuo con la mia lavorazione caricando i punti in modo normale nel caso volessimo effettuare aumenti nel centro o in mezzo al lavoro stesso per allargarlo ulteriormente arrivati al punto in cui abbiamo deciso dove posizionare l'aumento lavorata la barretta verticale del punto che lo precede entriamo nella catenella come abbiamo fatto prima e andiamo ad estrarre la nostra asolina continuiamo con la nostra lavorazione e se dobbiamo fare altri aumenti centrali singoli procediamo sempre allo stesso modo lavorata la barretta verticale che precede il punto in cui abbiamo deciso di fare l'aumento entriamo poi nella catenella successiva tra un punto e l'altro ed estraiamo la nostra asolina continuiamo con il carico dei punti e vi faccio vedere l'aumento finale l'aumento finale lo andremo a lavorare nella catenella che separa il terzo ultimo dal penultimo punto della riga stessa sono arrivata quasi alla fine della riga vedete lavoro quest'altro punto che siamo in prossimità del penultimo e terzo ultimo punto andiamo a lavorare anche la barretta verticale del terzo ultimo punto entriamo nella catenella che ci separa dal penultimo punto ed estraiamo la nostra asolina dell'aumento lavoriamo nella barretta verticale del penultimo punto e poi andremo a lavorare il punto di margine attenzione a quando lavorate i punti di margine a non entrare in questo punto che è esattamente la catenella che separa il penultimo punto dal punto di margine ma dobbiamo entrare qui come abbiamo visto nel video della lavorazione del punto base prendiamo tutte e due le asoline vedete quella anteriore quella posteriore e vado ad estrarre la mia asola per lo scarico dei punti procediamo in modo normale come facciamo per il punto base tunisino il primo lo andiamo a scaricare singolarmente tutti gli altri che abbiamo sul ferro li andiamo a scaricare due alla volta fino ad esaurimento e questo è il l'aumento fatto a punto pieno in modo quasi invisibile perché si va benissimo ad integrare con la nostra lavorazione finisco la riga e vi faccio vedere il risultato qui abbiamo lavorato i nostri aumenti e vedete che è quasi invisibile gli aumenti centrali vedete si notano a malapena questo è il primo che abbiamo fatto lavorando nella catenella questo è un altro vedete e questo è l'aumento finale che abbiamo lavorato tra il terzo ultimo punto della riga e il penultimo punto della riga l'uncinetto in modo differente otteniamo l'aumento decorativo di cui vi ho parlato prima il sistema è lo stesso l'aumento viene lavorato sempre tra il secondo e il terzo punto a inizio riga nella parte centrale laddove abbiamo deciso di fare l'aumento andremo a lavorare la barretta verticale del punto e poi l'aumento successivo mentre nella parte finale l'aumento lo andremo a lavorare sempre tra la penultima e terz'ultima barretta della riga vi faccio vedere anche questo tipo di aumento entro nel secondo punto lavorando la barretta verticale e adesso per lavorare il nostro aumento in quello precedente siamo entrati in mezzo alle catenelle che separano di due punti invece per ottenere l'effetto buchino e noi entreremo qui esattamente passando sotto tutta la catenella e andriamo ad estrarre la nostra asolina e il nostro aumento è fatto continuo la lavorazione in modo normale entrando nelle barrette verticali dei punti successivi e per la parte centrale laddove abbiamo deciso di effettuare l'aumento lavoriamo la barretta verticale e procediamo come abbiamo fatto per l'inizio entrando sotto vedete sotto tutta la catenella e andiamo ad estrarre la nostra asola continuiamo con il carico dei punti e vi faccio vedere anche l'aumento finale decorativo sono arrivata quasi alla fine della riga e anche questo momento lo andremo a lavorare tra il penultimo e il terzo ultimo punto lavoro nella barretta verticale del terzo ultimo punto ed entriamo sotto tutta la catenella che ci separa dal penultimo punto estraiamo il nostro aumento di fine riga e terminiamo la lavorazione lavoriamo nel penultimo punto e poi nel punto di margine lo scarico lo facciamo normalmente come siamo abituati a fare il primo lo scarichiamo singolarmente e i successivi due alla volta vado a terminare la riga e vi faccio vedere il risultato finale ecco qua abbiamo terminato la nostra riga di scarico dei punti abbiamo effettuato il nostro aumento iniziale centrale e finale e questo è il risultato come potete vedere entrando con l'uncinetto sotto tutta la catenella che separa i due punti si viene a creare questa sorta di rigo decorativo fatto tutto di buchini io credo che questo aumento non sia adatto per le lavorazioni compatte perché laddove nella parte centrale abbiamo bisogno di effettuare aumenti vedete che si viene a creare il famoso buchino e la barretta risulta visibilmente chiara perché è quasi il doppio di quelle normali o di quella che noi andiamo a lavorare entrando nella catenella con l'aumento che abbiamo appena visto ho fatto anche un campione d'angolo proprio per farvi vedere come potrebbe essere utile laddove vogliamo degli elementi decorativi dei nostri aumenti io spero che anche questo tutorial sia stato utile e vi aspetto per i prossimi nei prossimi andremo a studiare o almeno cercherò di farvi vedere nel mio piccolo come andare a lavorare gli altri tipi di aumenti se non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale lasciatemi un like e condividete